Non gioca a casa ma fa valere il fattore campo. Primi in campionato, difesa meno battuta del torneo, un piede e mezzo in finale di Coppa Italia di Lettanti. Il bimestre settembre-novembre ha portato il sorriso al corato di Fabio Di Domenico. Nell'ultimo turno i neroverdi hanno dato una risposta a tutto il campionato superando la Vigor Trani, nella sfida che contrapponeva la capolista dell'eccellenza pugliese alla squadra che al calcio d'inizio aveva totalizzato più punti di tutti nel torneo. Davanti avevamo una squadra abbastanza forte, lo dico nei numeri, era prima in campionato quindi è stata una partita bella, tosta, combattuta. Alla fine penso che ha vinto la squadra che ci ha creduto un po' di più, ha creato un po' di più e è andata bene. Però faccio i complimenti al Trani perché si è dimostrato abbastanza tosto. Nella fine non abbiamo subito nulla il secondo tempo, siamo stati bravi nella gestione della palla, abbiamo provato a chiuderla cercando il terzo gol, poi abbiamo avuto una gestione della gara ottimale che ci ha consentito di portare a casa la vittoria. Il vero tesoretto del team Coratino è stato costruito al Coppi di Ruvo di Puglia, casa di vicedomini e compagni nella stagione 2019-2020 per l'esilio forzato dal comunale. Dopo il KPO della prima in campionato contro la Deghi sono arrivati cinque successi interni su altrettanti tentativi. Manuel Vergori, tra gli eroi del triplete del Casarano nella scorsa stagione, intravede anche a Corato i margini per ripetere l'impresa ma predica umiltà. La qualità della Rosa secondo me lo permette, poi strada facendo vediamo dove arriviamo e cerchiamo di ottenere il massimo. Farispenti allora ma ambizioni intatte. La ricetta del Corato che guida il campionato di eccellenza a più uno sulla sorpresa audace Barletta è tutta qui. La classifica è ancora troppo corta per progettare fughe e fare tabelle di marcia. Lo sguardo è solo all'impegno successivo che nel caso dei Coratini coincide con la trasferta di Ugento contro una matricola della quale mister Di Domenico non si fida affatto. L'Ugento che ho visto in alcuni filmati è una squadra che gioca molto a calcio, è una squadra importante nell'individualità per cui sarà una partita difficile.